Codice di errore 34, riavvio del sistema botte, 0% completato, 30% completato, attendere. Non è mai facile come vorresti, vero? Non è facile come vorresti, vero? Hai visto che rocco? Termina il tuo cuore su un po' su un po'. Presiono. La tua gamba è andata, è fatta. Per riparo, ci sono. Prezzo. Obiettivo individuato, guardo a sinistra, avanzare! Granata, suci a terra! Restore this tower! Resulta, suci a terra! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.